Cristian Milano, Nicolò Totellero e equipaggio Canavesano Anche in questo caso dobbiamo parlare di un equipaggio da tenere d'occhio perché è sempre la sorpresa piacevole dei risultati finali Allora Cristian come va? Va bene, oggi speriamo nel tempo, un ottimo parco partente qui a Valle d'Aosta complementa l'organizzazione e speriamo di divertirci e far divertire Molto bene, i bocchi al lupo! Cristian Milano, Nicolò Totellero a bordo di questa Skoda Fabia La special car, altra tienda La speciale 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 car, altra tienda